I maggiori dirigenti internazionali reclamano un approccio globale per contrastare l'impatto della pandemia da coronavirus, che secondo il direttore generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Guy Ryder, ha fatto precipitare il mondo del lavoro in una crisi senza precedenti. Gli fa eco il segretario generale delle Nazioni Unite. Cerchiamo di essere chiari, non è una scelta tra salute, occupazione ed economia, è tutto interconnesso. Vinceremo su tutti i fronti oppure falliremo su tutta la linea. Le prospettive per il mercato globale del lavoro nella seconda metà del 2020 sono altamente incerte. Le previsioni di ripresa non saranno sufficienti affinché l'occupazione torni quest'anno a livelli pre-pandemici, ha dichiarato ufficialmente l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Al fine di gettare le basi per una solida ripresa, le politiche monetarie e quelle fiscali e commerciali dei Paesi devono fare di tutto per convergere su una stessa direzione. Devono essere accompagnate da politica del lavoro e investimenti sociali, per garantire che nessuno venga lasciato indietro. La compulsiva accelerazione del lavoro digitale a distanza non esime comunque nessuno dal ripensare una distribuzione equa e solidale delle risorse. Sarà fondamentale investire in competenze e infrastrutture digitali e dobbiamo riflettere attentamente sui modi in cui possiamo assicurarci che una rapida crescita del settore digitale porti a vantaggi ampiamente condivisi tra le nostre società. Il vero impatto sui lavori che pretendono un contatto sistematico col pubblico intanto potrà essere valutato soltanto nei prossimi mesi.